Amici e amiche del football americano di Clevelander e delle scommesse, per la quarta volta e purtroppo indifferita, benvenuti alla settima puntata e l'ottava stagione, scusate il pronostico, il podcast dedicato ai pronostici delle partite NFL basandoci sulle quote dei bookmaker, un ringraziamento dei cutting edge, il contenitore che ci ospita settimanalmente, un po' meno a sprickle stasera. Le quote che utilizzeremo sono del Caesar Palace di Las Vegas, partita per partita indicheremo le nostre scommesse, anzi la nostra scommessa perché ognuno dei presenti dirà la sua e alla fine sarà la maggioranza a decidere. La nostra scommessa sarà virtuale visto che punteremo esclusivamente alla nostra dignità di conoscitori di questo sport, sperando ovviamente di far meglio di chi non ha voluto pronosticare Soldatino King e D'Artagnano per scommettere su Antonellone da Messina. Come la nostra sigla ci ricorda, insieme a me, se Dio vuole, a pronosticare ci sono il Notaio, Mauro Rizzotto, Giorgio Prunotto, Marco Santini, Ilvate, Stefano Tarquini, buonasera a tutti. No, no, ma noi ci siamo, noi ci siamo, non c'è la diretta e non si riesce a capire. Se c'è una cosa sicura è che ci siamo noi. Eh, noi ci siamo. C'è lo zampino del direttore. Salutiamo la chat che comunque sicuramente parteciperà ai pronostici perché non mollano un colpo. Spiace, chiaramente. Strano, eh, che è una volta che devo condurre io. Strano, strano. È un gomblotto. È un gomblotto. Io devo dare ragione a quello che diceva che è un gomblotto. Ovviamente è un gomblotto, però avrò altre due puntate perché sul contratto c'è scritto almeno tre puntate diverse. Non mi frega io, eh. Cioè, il contratto l'ho visionato, lo conosco, sappiamo perfettamente cosa c'è e non cominciamo con le interpretazioni perché altrimenti io, che sono, rappresento qui la fonte legislativa alla quale tutti devono assoggettarsi, la bastono. Lo taglio un po' la tavola di Amburabi, scusate. Bravo, bravo, bravo. Per cui non perdiamoci, lavoriamo, facciamo le cose come vanno fatte. Riepilogo della puntata precedente. Prego, Notaio. Nelle puntate precedenti Marco Sottini e Stefano Terquini. Sembra un po' l'inizio del vitello dei piedi di balza. Allora, puntata precedente. Bold, zero. Proprio zero. Non ce n'è stata. Gioco del nome. Emanuele Sortino ha preso il nome. Bravo. Ha detto il kicker. Un kicker. Dicker the kicker. È facile. così. La scorsa settimana c'erano 14 partite. Ricordo c'erano due bye. C'è stata la deflagrazione contemporanea di Giorgio Prunotto e Alessandro Taraschi che hanno azzeccato la cifra folle, folle, di 21 pronostici. È la prima volta nella storia stagionale dell'ottava stagione di Scusate il pronostico che varchiamo soglia, che qualcuno varca soglia 20. Per cui tocca a fargli i complimenti. Visto che i due non lo sa, ma noi prima abbiamo applaudito, quindi toccherà applaudire di nuovo. Bravo. Esatto. Bravo, bravi, bravi. Visto che oltre ai 21 pronostici complessivi hanno primeggiato anche nella speciale tappa degli overrunner con 10 a testa. Hanno proprio fatto gara complessiva. 21 totali, 11 sullo spread e 10 sull'overrunner. E voi, attenti a questi particolari, direte ma come? Ci sono 14 partite e loro hanno fatto 11. Mi starete mica dicendo che qualcuno ha fatto meglio di 11? Starete dicendo? Sì, infatti, è un po' che me lo chiedo. Chat quattro volte. Infatti, è già quattro volte che lo diciamo e continuiamo a ribadirlo. La chat ha preso 13 pronostici su 14 partite. Porca vacca. Complimenti alla chat che non ci sente, però grandi. Però grandi. Ci sentirà la fine puntata. Hanno sbagliato per la cronaca solo Browns-Eagles. Lì si sono fatti ingolosire. Non hanno seguito Io l'ho detto di dire che è l'altro. Lo sapevo che l'avrebbe detto e invece hanno detto Eagles over e si sono bruciati l'handplane. È tutto per il risulto delle puntate precedenti. A lei, conduttore per l'avvio della puntata. Ci siamo? Possiamo farla partire effettivamente? Mezz'ora e non abbiamo fatto neanche problemi. Mezz'ora e non abbiamo fatto zero pronostici. Credo possa essere anche la classifica della chatta. Ecco, bravo. Era un trabocchetto per il conduttore per vedere se se ne ricordava. Eh, ciao. No, lo stavo per dire. Scusate il pronostico per lo spaglione. Prego. Allora, la chatta ha anche pim pum pam perché abbiamo a pari merito al primo posto due pronosticatori con 20 di overhaul e sono Matteo C e Raimondo Vinello con entrambi 12 di spread. per me Raimondo Vinello ha vinto anche solo per il dome che poi sia quello vero o un nickname non mi interessa ha vinto comunque. Secondi a 19 di overhaul Luca con 10 di spread e Matteo Binaschi con 9 di spread e infine un terzetto al terzo posto a 18 con Francesco Carollo Marco Traversi e Luciano. Benissimo 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 siamo pronti a partire direi a questo punto invio ufficiale invio il primo dei pronostici alla chat che ci ascolta con con grande affetto nonostante le nostre mancanze quindi abbiamo i Denver Broncos i Denver Broncos del grande Richard Nixon che sono favoriti bisogna dire che questo è il giovedì notte football ah il giovedì notte football vede i Denver Broncos affrontare i New Orleans Saints Denver Broncos favoriti è un periodo un po' strano nell'NFL favoriti due punti e mezzo è un overhander catastrofico il più basso della giornata a 37 e mezzo partiamo partiamo forte Giorgio partita memorabile che passerà la storia come il rattler delle sabine Broncos un ottimo inizio Steck a New Orleans sono rimasti senza macchina ma daranno avanti lo stesso Saints under niente ma anche questa Marco io ho un banalissimo Saints under che è anche corretto Giorgio ti do il compito di controllare i pronostici di Marco mi raccomando assolutamente con cattiveria mai vista Mauro allora io sto saltando da una finestra all'altra cercando di far quagliare tutto e non mi ricordo cosa ho segnato ho segnato Saints over non so perché se il notaio avesse sbagliato il pronostico sarebbe stato un giorno ancora più storico nella storia di questo podcast non penso che succederà mai anche perché dovessi dirne una cosa me lo correggo autonomamente giusto Saints over è il pronostico del notaio e stack cosa ci dice la chat dice un attimo solo che mi sono perso un pronostico bron Saints aspetta fammi togliere il mio di pronostico anche questo se no inficia eh si inficia quella è la fregatura allora broncos over broncos over è il pronostico della chat quindi c'è stata sospensa broncos diventa il pronostico di tutti abbiamo 4 over e 4 under giusto notaio giusto tesimio direttore che salutiamo con grande affetto direttore puoi anche non tornare così di fretta e prendi un periodo sabbatico lungo quanto desideri il nostro carissimo direttore dice under e quindi il pronostico prematurato complessivo come se fosse Antani è broncos under per tutti noi messi insieme andiamo avanti che direi che insomma abbiamo iniziato da 28 minuti abbiamo fatto una partita vero che non si è sentito proprio tutto però arriviamo alla domenica pomeriggio a football anzi domenica sì primo pomeriggio mattina dipende dal fuso orario domenica primo pomeriggio londra football però esatto arriviamo alla partita in cui invieremo una massiccia rappresentanza di questo podcast sì per così per diletto compreso il direttore una partita selezionata con attenzione cioè proprio siamo andati alla ricerca spasmodica è mesi che studiamo per cercare la partita migliore della stagione e abbiamo selezionato Mauro posso dire scusami non solo mesi ma sono tre anni che noi ragioniamo la partita migliore e niente po' di meno che New England Patriots contro Jacksonville Jaguars noi sì che siamo intenditore si sente dai nostri pronostici come hanno scritto in chat pensa che a Monaco vanno Carolina Panthers e New York Giants no giura forse una bella sfida una bella sfida è anche una bella sfida New England Patriots vanno ad affrontare cioè affrontano a Londra i Jacksonville Jaguars che però sono già lì quindi sono più comodi diciamo Jaguars favoriti di 5 punti e mezzo stanno andando avanti a pudding da una settimana esatto forse perché sono già in loco Jaguars favoriti di 5 punti e mezzo un overhander su Gosino a 42,5 mi sono reso conto che io prima non ho detto il mio pronostico che è Broncosander ma era comunque questo è Jaguars vabbè se volessimo dirlo alla fine sono qui anche per questo da lei sono lei il conduttore facci lei faccio faccio Giorgio prego partita a rischio e attenzione sembra che i giocatori in New England abbiano problemi con i documenti per le Spatrions Jaguars under carino Giorgio stessera parlando sottile questa tac tac appoggiata piano non puoi fare tutto strange hai aperto la difesa tra le hash marks ma non sappiamo chi di corsa può attraversarla Jaguars under c'è anche del mistico io mi aspettavo un questo Wembley è troppo piccolo per tutti e due che comunque sarebbe stata carina Marco allora qui devo raccontare un aneddoto di settimana scorsa che Jackson era andata alla proloco di Londra aveva prenotato il campo di Tottenham per quattro ore dalle tre alle sette solo che si sono presentati alle due e il custode gli ha detto ah ma siete già qua Petri o Zander ecco senza dire altro direi che può bastare così sembrava una di quelle barzellette che durano venti minuti e ti creano una hype devastante e poi hanno una battuta a me è piaciuta Marco purtroppo le sta azzeccando io ve lo dico ma è vero due su due per il maestro Mauro Petri o Zander Petri o Zander è il pronostico del notario stack tira le somme non interessa il Taraschi che non c'è manca il Taraschi Jaguars Under Jaguars Under è il pronostico della chat e in realtà Jaguars Under è anche il pronostico di tutta la redazione corretta Jaguars Under è il pronostico di tutti noi in realtà proviamo a crederci ma sarà sicuramente così o comunque Under ecco sull'Under poco da dire ma nei primi quattro tentativi di registrare questa puntata avevamo fatto gli stessi pronostici mi pare di ma in realtà c'eravano affermati io no ci eravamo affermati alla intro vabbè procediamo Detroit Lions ospiti dei Minnesota Vikings è questa la squadra che tremare il mondo fa giusto Notaio? no no è l'altra ok comunque i Minnesota Vikings invincibili imbattibili un saluto Alessandro Taraschi che quest'anno vincerà tutte le partite Vikings favoriti lui proprio sì lui in prima persona che fa il linebacker Vikings favoriti due punti e mezzo e un ricchissimo non il più ricco di giornata ma comunque ricchissimo 50,5 di over under io penso che vadano oltre quindi Lions over lascia Giorgio messaggio in chat messaggio in chat cosa c'è? cosa c'è in chat? ah pardon mamma mia è preciso come un orologio spizzero allora i Lions mangeranno i vichinghi in un sol boccone con contorno di Cavolflores Lions under Giorgio fantastico stasera Stec ok su un caldo lo scettro vai Stec facci sognare che cavolo stai dicendo Darnold Lions under brevemente Marco anch'io Lions under ma senza è giusto anche questa Marco ma non ti ho detto che sei da Zecchi tutti e non fa più ridere come eravamo d'accordo ah scusa Raiders over Raiders over notaio sto pensando sulla scia dell'appoggiorgio com'è l'appoggio a Stec non mi viene una cosa l'appoggecco 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 sander anche per me ecco l'appoggecco ecco l'appoggecco Lion sander per il notaio e per la chat Stec la chat arrivata al momento è vi prendo l'ultimo vuoto aspetta me lo so perso allora siamo su Lions over c'è sempre questa suspensa in attesa dei pronostici mi sembra loro non lo vedono ma sembra quasi che abbia un monitor di un metro di larghezza perché guarda l'una parte all'altra beh io un video vuole enorme solo per controllare i tuoi pronostici fai tu questo è doveroso direi e il Lions è il pronostico anche della chat quindi mi corre l'obbligo di rilevare che abbiamo il primo unanimi della serata della serata mentre l'overander non è un unanimi ma è under al contrario di ciò che dice la chat quindi Lions sander è il pronostico della nostra redazione proseguiamo con una partita a mio giudizio estremamente interessante ma non sta a me dire cose serie in questo podcast quindi gli straubiglianti Texans vanno ad affrontare i Green Bay Packers Packers favoriti di 3 punti e mezzo e questo è interessante overander di quelli infami a 47,5 3,5 Packers 47,5 nel frattempo lo mando prego Giorgio se vincerà il quarterback di Green Bay uscirà dal campo meritando una standing lovation Texans over molto carino Texans over per la standing lovation e Steph oh Romeo Romeo perché sei tu Romeo ricevi sta palla e Steph farma il tuo marcatore o se non vuoi fai solo tip tap sulla linea ed io non sarò più un cornerback Packers under Steph arma posso dirti Steph che ho qualche dubs che fosse così il testo originale però potrebbe anche essere Marco ecco qui allora credo Texans over l'ho preso allora è in forma stasera 4 su 4 10 minuti è meglio di Sinner ragazzi abbiamo perso tutta l'audience da quando Marco ha zecchi i pronosti cioè non c'è nessuno connesso e ci credo non siamo in diretta che odia su e vero non ce l'abbiamo ancora sono perso un attimo una cosa Mauro Texans under Texander per il notaio invece la chat cosa dice la chat arrivata fino a questo momento dice Texans over Texans over per la chat che è anche il pronostico di tutta la redazione quindi per la redazione congiunta nostra più la chat i Texans vinceranno questa partita o la perderanno con meno di 3 punti di scatto e si andrà sopra i 47 punti e mezzo facciamo ogni tanto anche un ricapitolo per tutti abbiamo i Miami Dolphins Miami Dolphins Miami Dolphins Miami Dolphins number one no Santini lei si può astenere c'è un confetto di interessi qui non può non può ha chiesto la seconda voce eh va bene ma gli ha da risparmio i Miami Dolphins number one affrontano gli Indianapolis Colts che peraltro è un derby se cantilino i tuoi Indianapolis Colts Colts favoriti di 3 punti e mezzo e un overhander anche qui abbastanza particolare 44,5 di quelli che non si sa bene cosa decidere Giorgio il cubì dei Dolphins per preservarsi agli infortuni si presenterà in tenuta Antley Sommossa Colts under c'è ragazzi c'è della qualità stasera stack pam 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 a Miami questa domenica assisteremo ad un bel sermon Colts over così d'ambè Marco così Colts under fenomeno poker niente Giorgio chiudi tutto basta andiamo a dormire Mauro me lo chiedete anche eh beh a me piace l'ufficialità ci vuole torniamo la saspera Dolphins Dolphins over è l'ovvio pronostico di Mauro chat la chat è arrivata fino a questo momento dice cancelliamo il mio di pronostico Colts over ma perché l'hai fatto? eh mi sarebbe sparigliare è il pronostico della chat e caro notaio mi confermerà che abbiamo 4 over e 4 under confermo quindi andiamo sul pronostico che ci ha inviato il suo alerte direttore che ci ha mandato tutti gli sparigli nel caso Alvaro Alvaro Solerte e ci dice il direttore under quindi il nostro pronostico è Colts under purtroppo nei Dolphins crediamo poco Colts under è il nostro pronostico andiamo notaio più che mai stasera andiamo ad ascoltare il primo spot scusate il pronostico è offerto da Cleve Lander se cercate un underwear resistente usato dagli uomini di linea Cleve Lander è quello che fa per voi provo che questo spot sia maestoso insomma quasi da poetica neoclassica non so se siete d'accordo veramente esprime al meglio i contenuti che porta contenuti alti anche bassi sì alti bassi considerando dove poi va a parare bassi ma sostenenti non bastava lo spot pure il rinforzo del conduttore il rinforzo serve in quel caso lì nel caso di Cleve Lander serve il rinforzino i senati Bengals qui presente Giorgio arriviamo al Debbie vanno ad affrontare i maestosi Cleveland Browns che morissero che tremare il mondo fanno insomma più o meno Bengals favoriti di 6 punti e mezzo Giorgio qui si vola dopo la vittoria sui Giants si vola 6 punti e mezzo 42,5 è il sugoso over under quindi Bengals 6,5 punti favoriti 42,5 l'over under a te Giorgio derby dell'Ohio è un focato per calmare gli animi servirebbe una tisana a Rabarbaro Browns Browns over vinciamo noi ma ma che schifo Marco vinciamo noi vinciamo noi però però non con quello spread Marco vinciamo noi vinciamo noi ecco allora però a questo punto conduttore sarebbe il caso che lei ricordasse perché il pronotto ha scommesso vinciamo noi il meccanismo lo sa fare ah certo chiaramente vabbè se vogliamo fare il piccolo no se vogliamo cioè se è qui a fare il conduttore lo facci altrimenti conduci e lo dici prendiamo il contratto un accendino a fianco e facciamo quello che andrebbe fatto oppure lei faccia il conduttore ci sono ci sono perché vi state chiedendo tutti io sento le vostre voci che se lo chiedono però se non lo dicevo io io non spiegava mica è perché stavo un attimo capendo le voci sì va bene va bene vadi allora perché il pronotto dice vinciamo noi perché è tifoso Bengals perché è tifoso sì vabbè perché è un manivantista vabbè perché dice questo perché i Bengals sono favoriti i 6 punti e mezzo quindi potrebbero vincere la partita con 3 o 4 o 5 punti di scarto e il pronostico in quel caso vedrebbe invece i Browns da pronosticare perché 6 punti e mezzo vuol dire che i Bengals devono vincere di almeno 7 punti per essere votati in questo caso so che non si dovrebbero dire cose serie ma voglio dire una cosa che scorprenderà tutti sapete che abbiamo perso le ultime 6 partite con i Browns che buca carina e qualcuna anche con punteggi enormemente alti esatto non immaginavo cioè neanche noi cerchiamo di rimuoverle va beh allora facciamo che il direttore la spiegava meglio siamo all'ottava stagione quindi presumiamo che il nostro pubblico abbia interiorizzato il messaggio e andiamo avanti stec illuminaci il problema a Cleveland è il ciaffico Browns over aspetta non lo ho capito ma non la voglio capire ci sono alcuni casi in cui non la voglio capire ciaffico godiamocela così e avanti Mark aspetta che mi devo riprendere Bengals under oh la pausa ti ha fatto male bene bravo stec mi ha fatto male stec stec ti ha fatto male cos'era? Bengals under che era Bengals over la vinciamo vinciamo noi ma è sempre sugli over under che è carente Marco gli over under non se ne ricorda proprio cioè più forte di lui Mauro per me Bengals over Bengals over per Mauro chiaramente non serve dire che il mio pronostico è invece Cleveland under e la chat cosa dice? serve perché se no non la pagano vabbè non è solo quello il motivo per cui sono qui quasi la chat compatta Bengals over Bengals over è il pronostico della chat di conseguenza Bengals over è anche il pronostico del combinato disposto chat più redazione eccoci qui quindi Bengals over è il pronostico di tutti noi messi insieme così non mi avete fatto dire Cleveland under un'altra volta proseguiamo la squadra più forte della NFL no della NFC neanche i New York Giants insomma ospitano i Philadelphia Eagles Eagles favoriti di 3 punti e mezzo che sono fin pochi e over under ha 43,5 Eagles 3 punti e mezzo over under 43,5 Giorgio allora per battere fila a New York servirebbe una Magians Eagles under Eagles under stack Goddard bene chi Goddard ultimo Giants under bravo stecco bravo 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 adesso voglio vedere se il tuo sudale hai coraggio di dire la stessa cosa più o meno Marco Giants è impossibile che l'abbia detto Eagles under giusto riprende la serie positiva torna in pista torna in pista Mauro Eagles over Eagles over che poi no non è il mio pronostico perché ho detto Eagles under spiace ragazzi ormai non ci si crede più chat no non ci si crede più un attimo quella chat stiamo al riconteggio delle delle schede un attimo scusate e qui devo contare bene bene devo contare l'ultima scheda è questa bianca la chat dice Bonino ma c'è sempre Eagles over Eagles è il pronostico della chat mentre il pronostico generale complessivo conferma gli Eagles vincitori con almeno tre punti e mezzo di scato quindi con almeno quattro punti di scato e invece under è il pronostico di tutti noi messi insieme quindi la chat dice over ma tutti quanti insieme pronostichiamo under proseguiamo 43 e mezzo non è proprio non è proprio giocano i Giants anche gli Eagles non è che quest'anno siano proprio spumeggianti proseguiamo ma non diciamo troppe cose serie che sennò prendiamo il filo Seattle Seahawks stiamo sempre nel domenica pomeriggio football perché l'ombra del direttore Aleggia su di me e a proposito di Aleggia Seattle Seahawks contro Atlanta Falcons Atlanta Falcons ormai scatenati sulla piazza un saluto al nostro Alberto Cantù che vedrà vincere le prossime otto partite consecutive Falcons favoriti di tre punti e mezzo e l'overhander pim pum pam pam pim pum della giornata 51,5 quindi 51 e mezzo i Falcons e overhander scusate tre punti e mezzo i Falcons Giorgio scontro volatile tra squadre che sperano di spiccare il Bulen Falcons over faccia da Bulen e stack neosil paparaparaparaparaparapá paparaparapaparapà paparaparaparapā paparaparaparapá neosil neosil done Seahawks Under un'interpretazione magnifica perché devo sempre venire io dopo queste cose perché questo è l'ordine si lamentano tutti quelli che vengono dopo di me ma Marco Seahawks Over è scatenato è scatenato non lo teniamo più ragazzi Mauro Sono completamente d'accordo con Marco Falcons Under Benissimo Falcons Under la chat la chat arrivata fino a questo momento è Falcons Under Falcons Under per la chat il che va a confermare il Falcons come pronostico di tutta la redazione ma ci lascia con 4 over 4 under il direttore ha votato Under e con un pochino di maniavantismo anche Seahawks però non lo diciamo quindi il pronostico della redazione è Falcons Under per tutti i nomi messi insieme proseguiamo che stiamo prendendo un ritmo spaziale passati 50 minuti abbiamo fatto 7 partite però 8 partite più di così Tennessee Titans contro Tennessee Titans eccoci abbiamo dovuto solo dirlo un paio di volte io ho particolarmente apprezzato il tentativo di unire un barito e un contralto nella stessa nella stessa ah si? quello che ho fatto? bene ma non mi sembrava a me è insaputa ma era in Pugliese Marco? in Pugliese? in Pugliese si si baritono si 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 va bene dicevamo parla Pugliese parla i Bills non li ho ancora parla Pugliese parla Tennessee Titans contro gli scatenati Bills favoriti di 9 punti e mezzo 9 punti e mezzo che è lo spread più alto di giornata over under 41,5 infame Giorgio la chat grazie la chat grazie arrivo prego e la chat prego anche Levis continua a commettere errori da Matitans rossa Bills over Bills over per Giorgio io mi sto sbagliando Giorgio o quest'anno devo ancora sentire un calembur sui jeans credo che non sia mai stato utilizzato anche a me da meno di sicuro no anche da me è troppo facile finché lo sponsor non ci paga è vero anche quello se aspetti a Levis che ti Levis stack sono ormai spirits questi titani nelle amari pianure di Buffalo Bills over voi non potete dire questo è un gran peccato per tutti Marco e Leamari secondo me non è stato sottolineato abbastanza perché vabbè Bills ande oh dai che ogni tanto c'è oh le qualche gioia ce la dà ogni tanto questo è il Marco che vogliamo che conosciamo e che amiamo però mi hai detto tight no tu sbagli gli overhander tu sbagli gli overhander tu non sei concentrato non ti concentri sugli overhander stai sei sotto sopra sei sotto sopra e quindi il pronostico di Marco è Bills over Mauro anche il mio Bills over chat al chat fino ad adesso pervenuta Bills over un intrigo di Bills over c'è un Titans quindi non è un unanimi e c'è un under che è il mio scusate e quindi non è unanimi ma Bills over è il pronostico della nostra redazione unita alla chat e quindi andiamo avanti proseguiamo con la meravigliosa sfida un'altra partitona mazza che schifezza ragazzi va beh i Las Vegas Raiders vanno a sfidare i Los Angeles Rams niente po' po' di meno Rams favoriti di sei punti e mezzo e un overhander forse va beh un po' strano a 43,5 se così vogliamo dire sei e mezzo favoriti i Rams i Rams e 43,5 è l'overhander Giorgio occhio alla battuta biblica orfani di Adams i Raiders come wire receiver puntano a Evans e Rams se avessero avuto come delle serie che si chiamava Evans era meno meglio cioè non è che posso stare lì aspettare ora che giochi no questo ci sta stack i Raiders spillano sudore da tutti i pori Reims under Reims Reims che penso sia francese però vabbè sono giocato in Inghilterra coppia con i Beers però Giorgio io dunque siccome sapevo che rientrava ho scritto Raiders under perché sapevo che rientrava davanti a Adams dopo un infortunio fanno giocare Tony Adams centrale dietro mi stai dicendo che non c'è più no c'è Brian Adams adesso cantare l'inno no veramente Adams non gioca più nei Raiders no e io come faccio col pronostico l'ho detto apposta ha detto mi porto anche via il pallone quindi è un casino è un casino sì ma per fortuna giocano a Los Angeles i palloni li mettono in Reims la prossima settimana sarà un problema sarà un casino e dove è andato Adams ha detto che andavo a trovare un amico ma con tutta l'Adams family compresa la mano allora diciamo che ha fatto una cosa mostruosa quello è vero è uscito a prendere le sigarette Mauro noi potremmo lo sapete voi ascoltatori che non ci state ascoltando in diretta noi su questa filone di battute potremmo continuare per un'altra mezz'ora almeno senza soluzione di continuità ma per carità ci fermiamo qui esatto Raiders Over non so perché così nessuno lo sa nessuno lo sa prima di far dire a Steck il pronostico della chat voglio fare davvero i complimenti e ringraziare tantissimo quei poveretti della chat che stanno aspettando un pronostico scritto senza nemmeno ascoltarci e stanno votando raga eroici siete fantastici eroici eroici vi lo diamo tanto allora io direi offriamo un regalo a chi ci ascolta in diretta tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta ne otteniamo un regalo siamo noi ci però devono dircelo ora è incredibile grazie di cuore Steck dici il pronostico il pronostico della chat è Rams Under Rams Under pronostico della chat Under è tedesco tedesco ma non è quello della Roma quello era turco va bene andiamo avanti Rams Under è il pronostico della chat Rams Under è il pronostico di tutti noi messi insieme e andiamo oltre questa bellissima partita per andare ad affrontare la patria di un'altra grandissima squadra dell'enferno attuale Carolina Panthers che però sfidano una che invece sembra essere davvero forte ovvero i Washington Commanders Commanders favoriti di 7 punti e mezzo e un overhander che è il più alto di giornata insieme all'altro a 51,5 Washington Commanders la squadra più forte dell'NFC East ma non che ci voglia granché e favoriti di 7 punti e mezzo sui Panthers 51,5 l'overhander Giorgio i Panthers non vinceranno neanche usando l'alabard spaziale Commanders over Commanders over stack è Tuttle sopra le spalle di Daniels Panthers under Tuttle come si scrive Tuttle 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 proprio sopra le spalle di Daniels quindi on edge Tut esatto Marco Commovers Mi sono commosso Quando fai così mi commovers Mauro Io non ho mica capito questo tutto però mi è piaciuto Panthers under anch'io Panthers under chat cosa dice? Chat sta arrivando con i suoi tempi e dice oddio questo chiamo Luciano ha scritto trans under ma non so che sia Luciano facci capire ha sbagliato c'è un'altra chat Luciano comunque fino adesso ma non riguarda noi i Commanders si sta organizzando la serata Luciano tranquilli io dico solo quello Luciano ho sentito sotto pressione Luciano ognuno fa quel che deve Milf over che stupido Commanders over è anche il pronostico del commiatto disposto quindi la chat conferma i Commanders che erano già definiti e sposta all'over under sull'over quindi Commanders over è il nostro pronostico Washington vincerà di almeno 7 punti e mezzo e si supereranno i 51 punti segnati andiamo a vedere quella che potrebbe essere una domanda non è che il notario si è sbagliato e siamo in diretta su OnlyFans e non lo sappiamo no mi viene il dubbio non ci fa il controllo non lo so il podcast del baseball su OnlyFans esatto 108 d'altronde mazza e palle voglio dire noi servirebbe 104 più che 108 va bene andiamo avanti proseguiamo con l'ultima partita prima di un altro bellissimo spot pubblicitario e questo ragazzi è rimesso del Super Bowl anche se non sembra ma è rimesso del Super Bowl Kansas City Chiefs contro i San Francisco Fontinainas del nostro caro direttore che nel frattempo sarà svenuto a sapere i disastri che abbiamo combinato San Francisco Fontinainas ma magari sarà svenuto per il risultato della partita che stavo andando a vedere ma va bene perché hanno recuperato eh parecchio quasi era sopra di 30 punti adesso è sopra di 3 sì non circa non mollare direttore più che altro sono preoccupato per la signora direttore è già in campo a picchiare tutti San Francisco 49ers favoriti di un punto e mezzo che è lo spread più basso di giornata e un overhander anche qui difficile da interpretare a 47,5 Giorgio allora replica del Super Bowl ma purtroppo non ci sarà più la colonna sonora di Kittle 9ers under oh un'allagrima stack oh the homodore 64 dimmi come fai se non ce l'hai the homodore 64 mai un defensive back è costato così poco the homodore computer 49ers over questo è un genio questo è un genio ragazzi questo è un genio Marco Amiga allora che cos'è la partita? Commodore contro Amiga Niners under stasera non ce n'è è tutta per lui è tutta per lui Mauro è carico a pallettoni io mi gioco Niners under anche io anche perché non so mica che cosa sto facendo 49ers under anche per Mauro e il pronostico della è un bel Chiefs over Chiefs over che ci lascia in parità nell'una e in parità nell'altra parte quindi 4 Chiefs 4 49ers 4 over 4 under decide il direttore 49ers under è il pronostico ma che pronostico strano no bravo il direttore a non nascondersi 49ers under è il nostro pronostico bene arriviamo finalmente a un momento attesissimo come tutte le settimane il secondo spot attesissimo attesissimo gente che fa la fia e le ragazze innamorare Clive d'Under è quello che fa per voi dai ma che ci frega ma che ci importa se lo stardino ci ha messo l'acqua e noi gli dico e noi gli favo ci ha messo l'acqua e non te pagamo ma però noi sei tu quelli che gli rispondiamo il coro è meglio il vino che gli castello questo Salario questo sarebbe lo spot per cui lei è andato a lezioni di Romano ripetizioni mesi per questo si sente si e dopo questo meraviglioso momento di show business possiamo proseguire i New York Jets Marco tienili d'occhio i New York Jets perché mi sa che potresti trovare qualcuno di di noto che forse stavi cercando New York Jets favoriti di un punto e mezzo sui Pittsburgh Steelers che non saranno fortissimi un punto e mezzo dopo dopo tutto quel popò di aperiti voi appuntamento con punte mes beh 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 che dire che dire che dire New York Jets favoriti di un punto e mezzo contro gli Steelers e 38,5 un rischioso insomma più che altro rischioso pronosticare under 38,5 di over under tra Jets e Steelers Giorgio cosa ci dici? allora con Rogers e Adams i Jets trovano un brisol di speranza di agguentare i playoff Jets over brisol è bellissimo ragazzi bellissimo stack insomma George lo vogliamo Pickens sì o no un TD questa stagione Steelers under è come la Cinecittà Marco come era l'appoggecco l'appoggecco ecco l'appoggecco l'appoggecco ed è giusto? no aspetta perché ormai stile Zander è giusto purtroppo non controllavo neanche più tanto ormai è una macchia c'è anche più gusto Mauro che ci dici? Steelers over Steelers over è il pronostico del notaio stack raccontaci e vi racconto un bel Steelers under Steelers under è il pronostico della chat che rende in parità i 4 Jets con i 4 Steelers e rende in parità anche i 4 over con i 4 under sarà contento il nostro direttore di sapere che abbiamo praticamente fatto i pronostici con i suoi Steelers over è il pronostico noi tutti messi insieme perché eravamo in parità sia nell'uno che nell'altro quindi Steelers over gli Steelers vinceranno questa partita e andranno nel combinato a superare i 38 punti Baltimore Ravens arriviamo al domenica notte football giusto notaio? giusto domenica notte football Baltimore Ravens ospiti dei Tampa Bay Buccaneers 3,5 sono i punti con cui sono favoriti i Ravens 48,5 l'insidioso over under Giorgio mi raccomando il chat grazie la chat perdona Riu occhio Bucanieri perché arriva l'amareggiata Buccaneers over l'amareggia carino Stack è tutta culp di win Buccaneers under Marco Alcone vado sulla fiducia non le chiedo ma vado sulla fiducia giusto bene attenzione però attenzione che poi ci si va di mezzo con gli avvocati su queste cose Mauro Buccaneers under Buccaneers under il mio pronostico è l'originale mentre Stack cosa ci dice della chat la chat sta per venenda in questo momento e dice un bel Ravens un attimo solo che mi manca l'ultimo over Ravens over grande chat che spariglia lo sparigliato e ci offre un Ravens over per tutti quanti messi insieme quindi i Ravens vinceranno con almeno tre punti di scatto e andranno oltre i 48 punti e mezzo quindi Ravens over è anche il nostro pronostico andiamo con l'ultimo il lunedinotte football come direbbe il nostro notaio e abbiamo ammazza un lunedinotte football anche qui insomma solo per appassionati Los Angeles Chargers contro Arizona Cardinals scusate i Chargers favoriti 2 punti e mezzo un overhander a 44,5 quindi questo meraviglioso Monday Night ci offre Chargers 2 punti e mezzo sui Cardinals e 44,5 di overhander George Murray non è alto ma può condurre il suo alla vittoria Cardinals under Murray non è alto Stec essere smart a volte non basta Cardinals over questo anche con un velo di tristezza c'è un po' di tristezza questo reto Marco Cardinals over e niente possiamo chiudere tutto stasera Santini ci ha dato una lezione tutti a casa solo due errori ragazzi con le pive e peraltro fatti apposta dopo essere stato ripreso se non avrebbe fatto tutto corretto secondo me ha aperto il file però scopriremo magari Mauro in omaggio all'exploit del mio amico anch'io dico Cardinals over bene così Stec concludiamo con la chat la chat sta concludendo in questo momento e dice un bel concludendo concludendo dice un bel Cardinals over è il pronostico della chat e ci va a sparigliare il pronostico sullo spread quindi per il nostro combinato disposto è Cardinals e viene confermato l'over detto più o meno da no non da tutti ma da quasi tutti quindi Cardinals over è il pronostico di tutti noi messi insieme abbiamo concluso con una leggerissima fatica ma niente di che solo quattro registrazioni però ci siamo abbiamo concluso i pronostici e proseguiamo nella nostra trasmissione con il gioco del nome non c'era la pubblicità non la fa più andare aspettiamo no la pubblicità è prima è lei il conduttore lei mi dica che cosa dobbiamo fare adesso io gradisco un gioco del nome e va bene due squadre 96 giocatori tutti potenzialmente possono segnare dei punti sembra un gioco facile ma non lo è scegliete una partita e indovinate il nome del primo giocatore che segnerà dei punti questo è il gioco del nome ed eccoci con uno dei giochi più attesi non quanto le bold ma quasi il gioco del nome e Emanuele subito fa una carezza a Marco ricordandogli che davanti a Adams è finito i jazz e lo pronostica visto che ci siamo lamentati che dice sempre chi davanti a Adams sarà il primo a segnare punti nella partita questa è amicizia questa è amicizia proprio volersi bene capito un bene partire che noi non riusciamo a capire ma sì ma nel senso è già buono che non ha detto un kicker questo anche io personalmente pronostico Josh Allen nella partita tra i Bills e i Titans e invece Alessandro sempre nei pizzini ci lascia scritto Jamar Chase tra Bengals e Browns Giorgio io dico Lorenz in Patriots Jaguars ma Lorenz chi? Lorenz d'Arabia Trevor ma Trevor chi? perché abbiamo già trovato delle partite in cui c'erano degli omonimi omonimi belli capelli belli capelli belli capelli quello è lui non possiamo sbagliare Stack per me il running back numero 31 Isaac Guerendo in Kansas City contro San Francisco ma perché il numero di Magia? 31 ma perché ci sono le omonimie è pieno di Guerendo l'NFL ah pensavo che era pieno di 31 io sto ancora Guerendo non so se ho capito bello va bene Marco allora è un running back dei Broncos Luigi Williams non mi ricordo il nome Luigi Williams un running back dei Broncos è un po' vago no Luigi Luigi Williams Luigi Williams ne sei uno solo apposta abbiamo un pronostico già rosso rosso sul nome è il massimo è il massimo Mauro io dico che nella partita tra Carolina e Washington il primo a segnare sarà Brian Robinson il running back dei Commanders quindi oggi nessun pronostico carina siamo tutti senza kicker quindi bene così vediamo se qualcuno lo indovinerà è il momento del terzo spot notario ora si è il momento abbiamo superato la fascia protetta e possiamo andare scusate il pronostico è offerto da Cleve Lander se cercate un underwear resistente usato anche dagli uomini di linea Cleve Lander è quello che fa per voi Cleve Lander Cleve Lander com'era la cosa dei baci però notaio non so se possiamo dire abbiamo una situazione critica adesso abbiamo un direttore alla soglia del collasso e al forum vogliamo mandare un saluto al nostro direttore a dire che ci manca così dico non le va a vedere le altre partite ha subito solo un parziale di 37-16 nell'ultimo quarto non tanto è destino che io non debba condurre secondo me non lo fanno più entrare può essere può essere che sia così dopo l'ultimo incantevole più romantico questo anche neoclassico più romantico degli spot abbiamo il momento più atteso di tutti vi chiedo una cosa prima di mandare la sigla notaio è possibile cambiare la sigla sotto Natale delle Bold magari mettendo qualcosa dei cinepanettoni diciamo che prima avviciniamoci al Natale poi ci pensiamo non è che io volevo solo rendere onore a Massimo Bold io vorrei morire andiamo con la sigla no andiamo con la sigla lei deve fare l'interno adesso arriviamo al momento più atteso Giorgio pensa che noi ci dobbiamo passare tre giorni interi e voi non dormite con me a proposito di saluti al direttore siamo arrivati al momento più atteso più partitante della settimana più enfasi insomma ecco è un momento vabbè facciamo che metto la sigla stifarmi stifarmi ed eccoci arrivati al momento più atteso della settimana la chat sta già pronosticando è inutile che io inviti la chat l'ha già fatto il grande stack però grazie anche per questo quindi stanno arrivando le bold in chat intanto vi leggo quelle dei due pizzinisti Emanuele ci dice che in Chiefs 49ers il risultato della partita sarà esattamente uno dei due risultati dei Super Bowl giocati tra loro sì io ho come una sensazione di déjà vu che non mi spiego su questa bold però va bene ok approvata sì approvata approvata il Taraschi invece ci lascia scritto come nell'ultimo Super Bowl verranno assegnati esattamente 47 punti no scritta io come hai scritto tu ah scusate ho invertito i nomi perdono e qual è quindi allora ragazzi e noi questo lo paghiamo c'è sì ce l'ho mischiato scusate c'è un fiorire questa settimana c'è stato un fiorire di bold su questa su questa cosa su questa partita per cui vediamo di andare con ordine io comunque continuo ad avere questa sensazione di déjà vu ah ok perché adesso ho capito perché ce l'hai va bene Mauro tu ce l'hai sotto mano quelle di Emanuele di Alessandro allora la bold di Emanuele Sortino è che in Chiefs 49ers il risultato della partita sarà esattamente uno dei due risultati successi negli ultimi due Super Bowl che i Giants e i Giants sì vedi quanto bene ti voglio adesso che Chiefs e Niners hanno giocato e cioè il 54 finito 31 a 20 o il 58 finito 25 a 22 quindi la bold è che sarà uno di questi due risultati invece la bold di Alessandro Taraschi è che come è successo nell'ultimo Super Bowl nella partita tra cifra verranno segnati esattamente 47 punti quindi senza specificare il risultato della partita ma con un totale di 47 punti allora è la giusta però secondo me lei ha fatto un po' un po' po' un po' invertendo tutte quante le righe perché non c'è questa non era la bold del conduttore lei ha mischiato tutte le righe del file le ho mischiate per un motivo ma ora non riesco più a ritrovarmi va bene comunque allora torniamo io alzo la mano se sono state la mia esatto allora io leggo le bold e va avanti allora questa bold di 47 punti era quella di Giorgio giusto Giorgio esatto grazie il conduttore per avermi combinato e spellerato la bold allora la bold di Alessandro Taraschi era che davanti a Adams e a Mari Cooper segneranno due tace da una testa ok dico subito che la accetto perché mi pare che devo fare tutto io questa sera e va bene faccio facciamo tutto io allora la bold di Alessio Salerio faccio pure io anche quella o la vuole o la vuole dire posso dirla la dica la mia bold è che nella meravigliosa partita di Londra fra i Jaguas e i Patriots che saremo tutti a vedere con gioia ci saranno almeno cinque tace da un pass la bold è questa che ci saranno cinque tace da un pass le sembra una bold eh ma considerando la partita forse vabbè ogni tace da un pass verrete inquadrati questa sarebbe già molto più carina la bold stack la tua no dobbiamo dire quella di Marco ma lei è ancora qui eh sì ma quando è che dirige la baratta non ho capito adesso si sta allargando mischia le righe fa tutto fa un casino stack la tua bold la mia bold è che nella week sette ci sarà almeno un pareggio almeno almeno quindi anche più di uno sì la mia bold è che eh Doug Peterson sarà licenziato a Londra appena finita la partita esattamente come successa il povero Joe Philbin quella volta che noi abbiamo perso contro i Jets eh e esattamente come il povero Joe Philbin eh Doug Peterson dovrà ricomprarsi dovrà rientrare negli Stati Uniti comprandosi un biglietto in un cargo battente bandiera liberiana solo che Philbin era come il Pigozzi esatto Philbin era con il Pigozzi adesso il Pigozzi ne abbiamo perso le tracce Peterson si arrangerà in qualche modo a tornare e concludiamo con la bold di Marco Santini allora la mia bold è che nella partita di Londra tra ma c'ho sempre questa sensazione di DJV beh verranno segnati cinque tassi di pass ma l'ultimo verrà annullato così Alessio perde la bold questo anche affetto non sembra ma è affetto in privato me lo dimostrò ma pensa se la prendo ma se la prendi che sono lì di fianco a te se la prendi scende giù tutto faccio un balletto di carto davanti alla faccia concludiamo con un messaggio dottore cerchi di dimostrare un minimo di controllo della situazione perché la puntata l'è sfuggita di mano Giorgio ha detto stasera in neanche un'ora se la caviamo sì ma non ha contato le quattro puntate precedenti che abbiamo registrato prima vado la prima l'abbiamo fatta di un secondo ci ho azzeccato noi ridiamo e scherziamo noi andiamo con le bode della chat vabbè ragazzi però non si può sono stanco anche io ammesso che ci sono delle bode nella chat perché non so se ci stanno seguendo ci sono a te l'onore ok anche perché mi sono offerto di controllarle tutte per ringraziarli della pazienza che hanno avuto che mito di uomo Nick la somma del punteggio di tutte le partite sarà compresa tra i 250 e i 270 punti totali va bene tanto la controllo di giù si controllo io Matteo Binaschi la somma dei punti dei due mandenai tutti i matematici stasera il fortale sono fermato alla scuola dei due monday night va da 145 a 154 boldona 75 punti e passa a testa Giovanni Giovanni Chubb e Achain rientranti combinano per 250 Yarns e 4 TD a me piace figurati se non mi piace e Luciano l'ultima per 5 squadre difese special team segnano più dei rispettivi attacchi questa è bella 5 squadre bravi tutti bravi tutti grazie ancora alla chat per l'aiuto e il supporto anche se non ci stavano ascoltando andiamo effettivamente con il messaggio finale quindi noi ridiamo e scherziamo e quindi i nostri pronostici sono validi solo fino a un certo punto ma voi ricordatevi che le scommesse sono un gioco con cui ci si può fare male quindi se decidete di scommettere sul serio fatelo responsabilmente mettetevi dei limiti di spesa e non superateli non giocatevi mai più di quello che potete permettervi di perdere e ovviamente fatelo soltanto su siti e canali legali e garantiti l'abbiamo portato a casa con enorme fatica enorme sofferenza ma anche un pochino di divertimento qua e là un pochino sparso esatto un ringraziamento un ringraziamento un ringraziamento ragazzi stanno un ringraziamento al notaio senza il quale non potrei neanche svegliarmi la mattina un ringraziamento ai grandissimi Giorgio Pronotto Marco Santini e Stefano Tarquini oltre alla chat grazie di cuore a tutti ancora ci risentiamo la settimana prossima sempre con la mia conduzione grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.